Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ringrazio anche il Comune di Firenze per tutto il lavoro che ha fatto, la stampa per tutta la sensibilità che ha dimostrato, in particolare il Toscana Oggi che ci ha dato spazio, il Reporter che ci ha dato spazio, la Nazione, il Corriere Fiorentino, Repubblica Motori e tanti altri che ci hanno aiutato in questo viaggio. La lista, noi faremo formalmente una festa e vorremmo consegnare formalmente le firme al Sindaco Renzi, come Giulia ha già accennato, questa festa sarà l'8 dicembre al Lobby Hall, l'ex Sashol per i Fiorentini, ha cambiato nome, e si chiamerà Valore alla vita. Valore alla vita perché noi ripetiamo sempre questo concetto che sostanzialmente parliamo di diritto alla vita all'inizio e alla fine della vita, in realtà c'è un grande diritto alla vita che è durante la vita, quindi quando le persone vivono, quando lavorano e quando vanno per la strada hanno il diritto di tornare a casa. Lo faremo accompagnando una ventina di storie che noi daremo perché la nostra storia, come ha detto Valentina, non è una storia nostra, è una storia di tantissime persone che vivono in tutta Italia. Lo faremo, speriamo, di fronte a circa un miliardo di ragazzi e l'obiettivo è quello anche di invitarli a reagire. Non dobbiamo stare a sedere, dobbiamo muoverci e quando vediamo un'ingiustizia dobbiamo cercare di alzare la voce in maniera ovviamente educata, ma cercare di cambiare. Questo credo sia il messaggio più importante che diamo ai giovani soprattutto e noi lo facciamo soprattutto per questo. Noi vogliamo che non esista più un mondo dove un'ingiustizia come questa sia perpetrata. Io faccio sempre l'esempio del portafoglio, ormai annunerò le persone, ma lo rifaccio un'altra volta. Io di Lorenzo conservo il suo portafoglio. Il suo portafoglio, se gli fosse stato rubato da questa persona il portafoglio in un autobus, la pena sarebbe stata esattamente identica a quella di ucciderlo come è stato ucciso. Quindi un portafoglio verso la vita di una persona e questo credo sia inaccettabile. Il messaggio che noi vogliamo portare è proprio questo. Ai ragazzi non è l'unica cosa accettabile, muoviamoci, possiamo cercare di cambiare quello che facciamo grazie all'aiuto di tutti. E grazie a tutti voi per averci ascoltato. Se ci sono delle domande particolari, l'iniziativa del 9 è alle ore 21, l'8, tre volte dico il 9 invece è l'8, perché lo ricordiamo è anche il compleanno di Lorenzo. L'anno scorso quella immagine che vedete sono gli amici di Lorenzo che lessero un testo particolarmente impattante e serio. E credo che la riflessione che faceva Stefano oggi sul reagire sia anche conseguenza di quello che in quella festa di compleanno, così amara ma anche così ricca di speranza.